sempre parlando di script possiamo vedere come realizzare un packing delle particles in questione esiste un tool molto interessante che si chiama p flow backer che trovate sempre nel pacchetto di download o su script spot.com il quale consente di generare delle geometrie animate dalle particles tale strumento l'ho trovato sempre molto utile quando abbiamo degli elementi finiti come questo semplice esempio e che può risultare molto più pratico andare a realizzare un backing non solo per la fase di rendering ma anche per la gestione del file finale il suo utilizzo è molto intuitivo ma bisogna prestare attenzione ad un paio di fattori funziona sfruttando un solo core e quindi può impiegare molto tempo per il backing è necessario visualizzare tutte le particles come geometrie e al 100% anche in viewport quindi se avete un flow leggermente complesso può risultare uno strumento molto esigente in fase di risorse e quindi è probabile che 3dx max possa andare in crash con facilità